Mestler mi ha evitato in Spagna sul circuito di Cartagena per provare i pneumatici della gamma Interact, ovvero in ordine crescente di sportività Z8, M5 e K3. Per dirla con il linguaggio Mestler rappresentano i filoni Rotec, Sportec e Racetech. Ho subito pensato che c'erano almeno tre validi motivi per salire su quell'aereo.